Come fare il deployment di microservizi su Kubernetes? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere i concetti base e le istruzioni, i comandi necessari per rilasciare genericamente un servizio all'interno di un cluster Kubernetes. Per seguire passo passo quello che io faccio in questo tutorial avrei bisogno di un cluster Kubernetes. Io in questo caso utilizzo quello emulato, diciamo, messo a disposizione da Docker Desktop all'interno di Windows 11. Comunque non è un requisito fondamentale avere il mio stesso setup perché il cluster Kubernetes non importa se sia uno vero e proprio pronto per la produzione o qualche altra distribuzione, diciamo, qualche altra versione, perché rispondono tutti agli stessi comandi standard. In questo video farò prima una parte pratica dove probabilmente ci saranno dei termini o dei comandi che non conosci che comunque verranno spiegati contestualmente oppure subito dopo. Eccoci qui, nel computer io ho un attimo aperto Visual Studio Code perché tra le cose che utilizzerò e che ritengo comunque utili quando si lavora con un cluster Kubernetes per scopi di sviluppo e anche studio e avere l'estensione Kubernetes perché la si trova qui cercando nel marketplace, dalla prima a questa qui che utilizzo, perché è molto comoda che mette a disposizione un po' di minimo di interfaccia grafica questa struttura d'albero per navigare gli oggetti del nostro cluster senza dover digitare sempre e comunque dei comandi kubectl. Nel momento in cui sto registrando, sto utilizzando Docker Desktop, basta andare nelle impostazioni perché di default la parte di Kubernetes è spenta in quanto mangia un po' di risorse, basta andare qui in alto a destra sui settings, andiamo poi qua nella sezione Kubernetes e attiviamo Enable Kubernetes. Ci metterà un po', soprattutto la prima volta, ma dopo un po' meno, ma comunque l'avvio del cluster Kubernetes richiede comunque circa anche fino a un minuto. Una volta che è tutto up and running, diciamo, lo vediamo qui sotto, abbiamo il normale Docker Engine e poi abbiamo qui il simboletto delle Kubernetes, possiamo eseguire i nostri comandi kubectl, per esempio qui, e vedere kubectl getnodes banalmente per vedere che ci sta rispondendo i nostri nodi del nostro cluster, sono questi, ce n'è in questo caso uno solo, proprio perché sto utilizzando una versione ridotta del Kubernetes tramite Docker Desktop. Vediamo quindi un paio di modi per fare partire le nostre applicazioni all'interno di un cluster Kubernetes. La prima cosa che possiamo fare è utilizzare il comando run, giusto per avviare una singola istanza della nostra applicazione. Tutti i comandi inizieranno ovviamente per kubectl, che è la riga di comando con cui si interagisce con un cluster Kubernetes, kubectl run. Do il nome descrittivo, in questo caso Nginx, ce l'ho fatta, e dichiaro che immagine voglio utilizzare. In questo caso utilizzo Nginx, viene presa da Docker Hub di default. Quindi faccio invio e viene creato un pod. Un pod è l'unità di base che possiamo rilasciare all'interno di un cluster, che fornisce l'ambiente di esecuzione della nostra applicazione, quindi la CPU virtualizzata, la memoria virtualizzata e così via. Quindi all'interno di un pod viene istanziato il nostro container con l'immagine Nginx. Se facciamo kubectl get pods, vediamo i pods in esecuzione, che ovviamente c'è lui, quello con il nome Nginx, che gli abbiamo appena dato qua sopra. A questo punto però il mio pod non è raggiungibile da nessuna parte, perché gira isolato all'interno del cluster, avrà un suo indirizzo IP privato, meno wide, faccio così, quindi vedo ulteriori attributi, sta girando all'interno del cluster con l'indirizzo IP interno privato 1010166. Non ho modo di collegarmi in questo momento all'istanza di Nginx. Sempre così, per scopo di magari diagnosi o sviluppo o test, voglio esporre, voglio entrare in questo pod e faccio kubectl per comunque, quindi effettivamente accedere all'Nginx, perché ne so vedere la pagina di benvenuto, kubectl port forward, e dico di inoltrare la porta, prima devo dire il mio pod, quindi Nginx, e faccio la porta 8080 locale del mio PC con la 80 del pod che sta girando nel cluster. A questo punto la riga di comando kubectl si mette in modalità port forwarding e cosa posso fare? Posso aprire un browser, a questo punto apro un browser, quindi http://localhost.8080 e welcome to Nginx e siamo all'interno del cluster, lo vediamo anche qui, handling connection, sulla porta 8080. CTRL-C interrompo ed ecco che abbiamo già realizzato una prima modalità molto semplice e idonea, non per scopi di produzione ma appunto per studio, test e sviluppo, per la nostra applicazione, un Nginx banale e ci siamo entrati. Posso fare questa cosa anche con un'altra applicazione, per esempio kubectl run devops, che è la mia applicazione di prova, kubectl run devops, 2.latest, manca ovviamente meno meno image, uguale, parte il pod, kubectl get pods, andiamo a vedere perché sono curioso, eccolo lì, ok, a questo punto voglio bruciare l'altro perché non me ne faccio nulla, kubectl, rm, pod, nginx, delete kubectl port forward, non ho voglia di scrivere, eccolo qui, facciamo così, devops 8080, 2.80, di nuovo apro un browser, qui, e questa volta ho un'applicazione diversa, è un'applicazione, una website, asp.net core, fatto con .NET, va bene, chiudo, e questa era una modalità di cui abbiamo visto due esempi, pulisco kubectl delete pod devops e ci siamo, benissimo, siamo ritornati, kubectl get pods sono in situazione pulita dove non ho pod che è in esecuzione. Bene, un altro modo leggermente più evoluto con cui possiamo rilasciare le nostre applicazioni è utilizzare l'oggetto deployment. All'interno di un cluster Kubernetes i deployment ci permettono di gestire a livello più elevato e ad accedere a determinate funzionalità quello che è il rilascio delle applicazioni, gestendo, per esempio, le risorse che gli mettiamo a disposizione e anche, se soprattutto, il numero di istanze che vogliamo. Per esempio, noi magari abbiamo bisogno di tre istanze della nostra applicazione per essere in grado di sostenere il carico in arrivo. Ecco che il deployment viene, l'oggetto deployment viene molto comodo perché mette a disposizione delle funzionalità che permettono di gestire in automatico svariate funzioni, come per esempio il numero di istanze. Noi diciamo, creiamo un deployment di tre istanze della nostra applicazione. Se qualcuno di queste dovesse avere un problema perché va in crash e così via, si penserà il cluster ad accorgersene immediatamente e a ritirare su una nuova istanza numero tre. Vediamo subito. Facciamo un esempio, kubectl, magari scrivendo qui, kubectl create deployment e la faccio devops, utilizza la stessa applicazione di prima, a partire dall'immagine fenixita, che è il mio docker hub, devops, due punti, latest. È stato creato il deployment. Posso vederlo con kubectl get pods, che è stato creato un pod con questo nome, che è diverso da prima dove aveva il nome esattamente che gli avevamo dato noi. Qui abbiamo dato il nome al deployment, lo vediamo, kubectl get deployment. Ho il deployment name, che è questo, che corrisponde a questo qui, che ha creato un pod, perché di default è uno, non ho dato parametri aggiuntivi. Lo posso vedere anche qui, dal plugin diviso studio code, dove ho, qui nei workload, faccio un refresh, i deployment, ho il mio deployment devops, che sovraintende a questo pod qui. Posso ovviamente fare la stessa cosa di prima, ma non è così che di solito si fa. Prendo il nome del pod e faccio kubectl port forward, lo vado a prendere da qui, e metto il nome del pod, port 8080 nell'80, vado così, apro un browser pulito, localhost 2.8080 e così l'applicazione comunque risponde. E mi sto collegando precisamente a questo pod. Allora, a questo punto, chiudo qui. Che cosa faccio? Diciamo che voglio tre istanze della mia applicazione, quindi andrò a dare il comando di scale. Quello che faccio è kubectl scale, meno meno replicas, uguale, dico che ne voglio tre, di che cosa? Del mio deployment, che è deployment ho premuto i tasti di troppo, devops. Allora, quello che quello che vado a fare per lo scale è kubectl deployment scale quello che vado a fare per aumentare le istanze è utilizzare l'opzione scale kubectl scale deployment gli dico devops meno meno replicas uguale tre. Allora, lo vediamo subito, apro anche un'altra finestra di qua, la voglio però così dividi scheda così e faccio la ingrandisco kubectl get pods meno w quindi questo qui mi mostra i pod meno w sta in weight e tutti gli aggiornamenti vengono automaticamente mostrati. Quindi di qua do un kubectl scale deployment tre repliche. Allora, quello che posso fare per andare a aumentare le istanze della mia cicla, dell'applicazione è kubectl scale deployment dev ops meno meno replicas uguale tre. Di qua, prima di dare il comando, faccio un kubectl get pods meno w mi sta in weight e mi dice tutti gli aggiornamenti della mia, che stanno avvenendo sui pod. quindi qui do l'invio ecco che vengono creati i pod e vediamo anche tutti le varie variazioni di stato quindi adesso abbiamo quello che finisce con tpq in running il qsb in running il 5.2j in running lo vediamo pulito senza il meno w e sono tre pod noi è bastato dire tre repliche. Facciamo finta perché siamo antipatici, no? Ci rimettiamo in get pods meno w che un pod abbia problemi e quindi andiamo a dargli il comando per ucciderlo. Facciamo kubectl delete pod prendiamo uno a caso prendiamo questo qui sotto e lo vado a rimuovere. Ecco che questo qui gli è stato dato il al x75 2j finale è stato dato il terminating subito dopo il cluster Kubernetes se ne è accorto ne ha creato uno nuovo il 9k5 6d questo perché il deployment che è stato impostato da noi poco fa con l'istruzione deployment create istruiva il cluster per dirgli di questa applicazione devono essere sempre tre istanze fai di tutto per mantenerle. Ecco che appena lui ha visto che un pod stava per essere terminato ne ha creato subito un altro e di nuovo così lo vediamo pulito abbiamo sempre tre ci assicuriamo che ci siano sempre tre istanze della nostra applicazione se effettivamente vogliamo vedere riportarla riportarlo a uno riusiamo lo scale deployment scriviamo a replicas uguale a uno qui c'è un errore di battitura eccolo qui in automatico il cluster andrà non appena elabora il comando scale deployment con replica uno va a terminare i pod questa volta andiamo a vederlo da di qua facciamo un po' uno zoom qui dentro faccio un'aggiorna e siamo tornati a una istanza e lo vediamo dall'interno del plugin di visual studio code da una istanza della nostra applicazione effettivamente quindi come mi tolgo di mezzo questo deployment beh kubectl delete deployment devops il deployment quindi questo oggetto che ci permette di gestire replica non solo della nostra applicazione viene distrutto ecco che abbiamo visto tutti i terminating dei pod qui faccio un refresh il deployment non c'è più però a questo punto lo ricreo un attimo kubectl create deployment devops meno meno image uguale fenixita barra devops lo vediamo subito creato con la nostra istanza e vediamo qual è il modo più appropriato per entrare all'interno dell'istanza di questa applicazione quindi abbiamo detto deployment regola il ciclo di vita diciamo della nostra della release della nostra applicazione gestendo il numero di istanze monitorando che siano quelle che noi abbiamo impostato eccetera questo punto però come prima kubectl get pods meno o w meno o wide vediamo ci accorgiamo che l'indirizzo ip è sempre l'indirizzo ip interno e non è proprio elegante però non si fa così in produzione non si fa il port forward per arrivare a un'applicazione diciamo ma la si espone con quelli che è un oggetto di tipo service cioè all'interno di cluster kubernetes ci sono degli oggetti che stanno nella famiglia del network del networking che si chiamano services che permettono di esporre o che regolano la comunicazione tra i pod quindi in questo caso voglio andare a creare un servizio che espone un po' come abbiamo fatto col port forwarding ma in maniera più strutturata le mie la mia applicazione così ci posso andare dal browser ok infine l'ultima modalità quella più strutturata per rilasciare installare applicazioni o servizi all'interno di un cluster kubernetes è quello di farlo utilizzando i file di deployment i file di manifest i file di manifest sono dei file tipicamente scritti in sintassi yaml che descrivono una configurazione in testo puro noi possiamo mandare questo file a un cluster kubernetes e si dice che stiamo ragionando lo stiamo utilizzando in modalità dsc cioè desired state configuration noi gli diciamo una configurazione di stato finale a cui vogliamo che il cluster arrivi non ci interessa come un po' come quando facciamo una query del linguaggio con il linguaggio sql a un motore di database noi diciamo che dati vogliamo select colonne from where condition e il motore di database ci pensa a lui a trovare il piano di esecuzione migliore e impiegare gli algoritmi migliori per risponderci il più velocemente possibile con dei dati allo stesso modo un cluster kubernetes noi gli diciamo voglio questa configurazione preoccupati di mantenerla persistita nel tempo fai quello che devi fare basta che sia così in questo caso quindi io sto dichiarando ho qui pronto un file appunto con sintassi yaml dove dentro vado cosa? dichiarare un deployment quindi quello che prima ho fatto in modalità dichiarativa con kubectl create deployment qui vado a dargli un file con all'interno tutta una serie di caratteristiche in particolare il nome del deployment e l'applicazione che io voglio installare tramite il nome dell'immagine ok dico ok di questa fammi il deployment inoltre qui vediamo tante altre proprietà come per esempio i limiti di cpu e memoria che questo pod può utilizzare e le porte che vengono esposte qui sopra abbiamo per esempio delle label importantissime che vengono appiccicate al pod quindi possiamo tranquillamente immaginare una cosa di questo tipo che al nostro pod dove dentro gira la nostra applicazione siano appiccicate dei tag delle etichette in questo caso c'è scritto devops asp mbc questo mi serve perché mi permette di distinguere questi pod e di poterli referenziare in altri parametri configurazioni del cluster che fatalità ci servono per esporli all'esterno e navigarci dentro quindi nella seconda sezione qui ho una liga ci verserebbero tre trattini 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 ma sono tutti attaccati vado a dichiarare quello che è un service un service è un oggetto kubernetes che permette di creare e di configurare delle regole di networking in questo caso cosa vado a fare un service di tipo load balancer ci farò un video dedicato su che cosa sono i service e vedere le tipologie più diffuse ma prendiamo per buono la tipologia load balancer è quella che mi permette di prendere un'applicazione o qualcosa un workload che gira all'interno del cluster e esporlo tramite un indirizzo ip pubblico in questo caso sarà tramite localhost dopo lo vediamo e applico questo servizio a quei pod che hanno dei tag con chiave valore app devops asp mvc cioè fatalità proprio i miei che ho dichiarato qui sopra quindi i pod che io vado a dichiarare col deployment di prima hanno queste etichette appiccicate e io li riconosco tramite questo selector questa ricerca qui dico ok a questi pod applico queste regole di rete in particolare vado a disporre la porta 80 e la 443 sull'indirizzo ip pubblico perché appunto è un load balance essendo in un cluster kubernetes che gira su un docker desktop l'indirizzo ip pubblico sarà un sarà localhost se invece fossimo in un cluster ospitato tipo sul cloud effettivamente la piattaforma cloud genererebbe un dirizzo ip pubblico e ci vorrebbe dato da utilizzare come si manda al cluster questa configurazione con il comando kubectl apply meno f tutto quanto viene applicato quindi invio cosa vediamo che viene creato il deployment viene creato il service con il nostro riga di comando kubectl get pods posso vedere che c'è il pod che è stato creato ma lo posso vedere anche da qui dai deployment dentro il viso studio code vedo il mio deployment che ha un pod posso anche fare l'ulteriore verifica tra che ci sia il servizio a mvc service che ha agganciato correttamente lo stesso pod del deployment quindi in teoria il mio pod è esposto tramite localhost facciamo una verifica kubectl get pods meno o wide e effettivamente abbiamo che cosa qui non ce n'è evidenza però in teoria dovrebbe essere esposto senza problemi non lo vediamo nella scritta localhost da nessuna parte facciamo un refresh qui ok però non supporto 8080 perché la configurazione era supporto 80 e eccolo qui lo vediamo nel nostro sito come prima che posso navigare per avere la controprova che effettivamente stiamo navigando sul sito ospitato dal cluster non c'è trucco non c'è inganno vado a distruggere tutto kubectl delete meno f così vediamo anche come si tolgono le risorse create da un file manifest semplicemente utilizzando delete meno f nome del file e qui ci dice tutto delete e da questo punto tornando nel browser faccio f5 ecco che non risponde più comincia a srotellare all'infinito e mi dice impossibile raggiungere questa pagina posso farlo ritornare su velocemente andando con l'apply di nuovo f5 eccoci qua nel giro di un paio di secondi applicazione up and running bene per oggi è tutto con i deployment su kubernetes abbiamo visto i comandi e le funzionalità di base siamo partiti con un run che permette di istanziare rapidamente un container all'interno di un pod e ci siamo entrati con il port forward di certo questo va benissimo per scopi di sviluppo test e così via ma non è l'approccio per produzione l'approccio di produzione è quello di utilizzare l'oggetto deployment con tutta una serie di caratteristiche che ci permettono di accedere a delle funzionalità avanzate del cluster come numero di istanze memoria e cpu a disposizione e così via l'abbiamo visto con un file di manifest l'abbiamo visto anche come esporre in maniera più strutturata sebbene abbiamo appena grattato la superficie del concetto di un servizio in modalità load balancer è applicato a tutta la configurazione con quello che è un file manifest e il comando cubcdl apply se da questo video hai imparato qualcosa mi raccomando metti un mi piace e ti aspetto alla prossima ciao grazie a tutti Grazie a tutti.